Un'autista molestata da un passeggero a bordo di un autobus di linea. È solo l'ultimo dei casi di un'escalation di violenze e minacce in provincia di Lucca, secondo Cube Trasporti, che è pronto a chiedere tramite i propri illegali la convocazione di un tavolo in prefettura con i sindaci di Lucca e Viareggio e le forze dell'ordine per affrontare il tema della sicurezza a bordo dei mezzi che attraversano la provincia. È quanto fa sapere Giovanni Regali del sindacato, dipingendo un quadro a tinte fosche della situazione che sarebbe peggiorata con l'estate. Tanti i problemi che il personale di Autolinea Toscane deve affrontare quotidianamente, dal rischio di aggressioni che ormai secondo il sindacato è all'ordine del giorno, fino all'assenza di controlli che fa sentire sempre più soli gli autisti di fronte a situazioni critiche spesso quotidiane. A fronte di tutto questo Cube Trasporti ha chiesto ad Autolinea di installare telecamere a bordo che siano accessibili solo alle forze dell'ordine con l'obiettivo di tutelare non solo gli utenti ma anche il personale.